È tornato il gigante dei circhi! American Circus Simply the Best! Tre piste piene di emozioni, suspense e risate, con cavalli, elefanti, cammelli e tigri di differenti colori. E ancora, trapezisti, salti mortali da grandi altezze, giocolieri e l'allegria dei clown. Volete trascorrere due ore davvero fantastiche? Allora non perdete l'American Circus! E quest'anno è Simply the Best! A Casale Monferrato, dal 27 novembre al primo dicembre. Infoline 348-333-7686 American-circus.com American Circus!